L'arbitro decide di intervenire solo con il fischietto, milanese fermato. Sangalli in mezzo, colpo di testa con zero, raddoppio dell'Inter, gioco partito. Vezsoni, eccolo qui, Bondara Cross, si ferma, ragiona, va col sinistro, tocco dentro, è l'ultima chance realizzata. Sfrutta lo spazio lasciato da Vergani e si inserisce anche in questa occasione, si è inserito molto bene lui, peccato che poi non riesce ad agganciare il pallone, non riesce a dare forza e magari a girare.